Dalla mobilità diffusa alla difesa dei beni comuni, dal diritto alla casa alla tutela del patrimonio culturale della città, ma anche no all'ampliamento di Peretola e no al passaggio della tramvia da Piazza del Duomo, meglio piuttosto una rete di bus elettrici che colleghi centro e periferie. È un programma chiaro e ambizioso quello proposto dalla lista Una città in comune, che alle elezioni amministrative del prossimo 25 maggio a Firenze candiderà a sindaco Laura Bennati. 35 anni impiegata in un call center per presentare la sua corsa verso Palazzo Vecchio, ha scelto lo spiazzo sotto l'Ex3, il centro d'arte contemporanea chiuso da quasi due anni e tuttora inutilizzato. Uno spazio che secondo Bennati andrebbe destinato a un presidio sanitario che nel quartiere di Gavinana manca. Un modo per riavvicinare la politica ai cittadini, che è esattamente quanto si prefigge di fare Bennati una volta entrata a Palazzo Vecchio. Il giorno dopo le elezioni noi ci immaginiamo di parlare con tutti i dipendenti comunali, le donne e uomini che lavorano nel comune, quindi nell'ossatura di questa città, e chiedere a loro quello che serve per snellire le procedure e la burocratizzazione che c'è attuale e per mettere davvero al centro le persone, quindi partendo da loro e partendo dai bisogni di tutti quelli che vivono questa città. Bennati ha deciso di correre personalmente dopo che il progetto di costruire un'unica coalizione di sinistra tra partiti e movimenti è naufragata per il veto di SEL di candidare un esponente della società civile. Ciò non toglie che alla domanda se, in caso di ballottaggio, sarebbe disposta a dare indicazioni di voto per Dario Nardella, la risposta di Bennati è lapidaria. No, assolutamente.